La farmacia Bertolaso di San Pietro di Morubio è specializzata nella produzione di brevetti naturali personalizzati mirati alla perdita del peso senza la paura di recuperarlo. Prova il nostro Calofiber number one in tutta Italia per la riduzione del grasso addominale. La farmacia Bertolaso spedisce in tutta Italia, scopri tutti i nostri prodotti su farmaciabertolaso.com e seguici sui nostri social.